Resterà in carcere, almeno per il momento, il 47enne Aretino accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il fratello. Si è infatti svolto ieri nel carcere Aretino di San Benedetto l'interrogatorio di garanzia. L'avvocato difensore Francesca Arcangeli ha chiesto per l'uomo una misura cautelare meno afflittiva gli arresti domiciliari. Il PM Chiara Pistolesi invece si è opposta. Adesso la parola passa al GIP che avrà 5 giorni per prendere una decisione. L'episodio risale allo scorso 23 novembre. I due fratelli erano assieme in auto e stavano percorrendo la E78 in direzione Arezzo. All'uscita della quattro corsia è il culmine di una lite, però il 47enne avrebbe accostato e fatto scendere il fratello minore di 43 anni per poi tentare di ucciderlo con una serie di fendenti. Infine lo avrebbe abbandonato in una pozza di sangue lungo la strada. A notare la vittima alcuni passanti che gli avevano prestato soccorso. L'uomo era stato portato prima all'ospedale di Arezzo, poi alle scotte di Siena, dove nei giorni successivi era stato sottoposto ad alcuni interventi. La squadra mobile di Arezzo aveva subito avviato le indagini che si erano strette attorno al fratello maggiore, fondamentali poi le dichiarazioni del ferito. Infine l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 47enne eseguita lo scorso 27 dicembre. Restano però ancora da chiarire i contorni della vicenda, soprattutto il movente di questa folle aggressione.